Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi parliamo di Sifu, quindi vi darò le mie impressioni e vi parlerò un pochettino di questo titolo che sinceramente parlando mi ha letteralmente conquistato e mi ha strappato, se così si può dire, diverse ore di gioco. Ma partiamo con ordine ovviamente. Che cos'è Sifu? Sifu è un videogioco d'avventura fondamentalmente, un picchiaduro a scorrimento o più semplicemente definito come un beat'em up. Sviluppato e distribuito dalla Slow Club, che è già un'azienda di cui abbiamo sentito nominare per altri titoli, che ovviamente è stato rilasciato per Microsoft Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dall'8 febbraio del 2022. Mentre invece il rilascio per Nintendo Switch è avvenuto l'8 di novembre, sempre a partire dal 2022. Sifu è un gioco molto molto particolare perché presenta comunque un'identità molto forte e radicata, un gameplay semplice ma allo stesso tempo accattivante, una bellissima diciamo una bellissima parabola di apprendimento ascensionale dove è possibile migliorare le proprie caratteristiche ovviamente imparando abilità e concatenandole all'interno del gioco ma soprattutto permette al giocatore di potersi skillare e comunque permette al giocatore di mettersi alla prova con i vari livelli. La storia in realtà è molto semplice, è una storia di vendetta dove per l'appunto il giocatore in questione controlla un allievo Kung Fu, quindi un allievo generico che può essere ovviamente uomo o donna e poi successivamente inizia questo suo viaggio per vendicarsi di un gruppo di assassini, chiamiamoli così, che viene composto da 5 membri. Ognuno di questi 5 membri sarà per l'appunto poi il boss finale di ogni stage, quindi avremo in totale 5 stage giocabili che però si svilupperanno appunto con una serie di nemici da sconfiggere, mid boss e anche degli enigmi che dovranno essere risolti anche con una seconda run, dato che ci saranno appunto degli oggetti chiave che si possono trovare in un luogo o in un altro e che permetteranno di rivisitare i luoghi precedentemente visitati e sbloccare delle nuove strade e delle nuove vie per completare il livello. Il gioco è ambientato ovviamente ai giorni nostri, quindi possiamo definire diciamo un'ambientazione moderna, però ci sono all'interno di questo gioco, nonostante una grandissima componente naturalistica e ovviamente una grandissima fetta di realismo come appunto tutto ciò che è possibile vedere e toccare all'interno del gioco, sono presenti anche alcuni elementi mistici e di credenze popolari cinese, quindi possiamo vedere che ogni volta ad esempio che il nostro protagonista viene sconfitto e di conseguenza muore, viene resuscitato o comunque è possibile riportare in vita il nostro personaggio, però pagheremo ovviamente un prezzo. Il prezzo in questo caso sarà la nostra vita, quindi saremo noi ovviamente ad accumulare degli anni man mano che moriremo fino ad arrivare a un'età massima che porterà il giocatore al suo game over definitivo. Le vite sono accumulabili quindi ogni qualvolta noi moriremo aumenteremo il monte di anni che perderemo se verremo sconfitti nuovamente e ovviamente non si resetteranno, quindi man mano che noi andremo avanti avremo questo malus, chiamiamolo così, dell'età avanzata che diminuirà la nostra vita ma aumenterà la nostra forza fisica, quindi diciamo una sorta di compensazione del fatto che più saremo grandi e più invecchieremo più saremo esperti e quindi più saremo letali, ma al tempo stesso saremo anche più fragili, proprio per sottolineare l'età che avanza e ovviamente la debolezza fisica che si raggiunge poi con il passare del tempo. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche del gioco di Sifu, ovviamente abbiamo una prospettiva in terza persona in questo caso e avremo la possibilità di giocare e competere ovviamente nei vari livelli affrontando orde di criminali, sgherri, gangster eccetera eccetera. Abbiamo anche un complesso repertorio di mosse molto molto interessanti anche la possibilità di poter concatenare queste mosse le une con le altre per permettere appunto di avere delle combo fondamentalmente che ci consentono di giocare più facilmente e che ci consentono di farci strada in modo più semplice all'interno del gioco. È possibile sbloccare queste abilità temporaneamente quindi all'interno del livello in questione oppure utilizzando più punti che verranno accumulati sconfiggendo i nemici e compiendo determinate azioni avremo modo poi successivamente di sbloccarle in modo permanente quindi avremo la possibilità poi di utilizzarle a prescindere dall'età e a prescindere anche dalla nostra bravura o in questo caso dalla nostra tempra che ci permette comunque di non cedere così facilmente alla sconfitta. È possibile anche utilizzare delle armi che si troveranno appunto all'interno degli stage, si potrà far interagire anche il nostro personaggio con una serie di opzioni ambientali quindi sarà possibile comunque lanciare o utilizzare oggetti attorno a noi per infliggere danni, potremo anche interagire con superfici per lanciare ad esempio i nostri avversari da una finestra, da un'impalcatura, da un balcone eccetera eccetera. Esiste la parata, esiste la schivata quindi potremo decidere noi stessi come poter proteggere il nostro protagonista tramite appunto dei perri fondamentalmente o delle schivate fatte a tempo sia in alto sia in basso proprio per poterci proteggere dagli attacchi che colpiranno la parte superiore o la parte inferiore del corpo. Per quanto invece riguarda il sistema di morte come vi stavo dicendo poco fa il protagonista viene riportato in vita ogni qual volta viene sconfitto ma a suo tempo avremo un difetto ovvero la perdita della nostra età che verrà poi segnalata sul nostro ciondolo magico che abbiamo appunto abbiamo attaccato al fianco e che successivamente brillerà e ogni dieci anni spezzerà uno dei suoi sigilli. Per il resto ovviamente è possibile indagare ed è possibile anche collezionare come vi stavo dicendo prima degli oggetti e delle interazioni che potranno essere controllate da una tavola che si chiama appunto l'investigation board o la detective board chiamatela come volete voi proprio per ricollegare tutti i pezzi del puzzle che il nostro protagonista ovviamente sta componendo da diversi anni nella sua vita e che porteranno appunto alla risoluzione della sua diciamo della sua vendetta chiamiamola così oppure alla risoluzione della pacificazione della sua anima perché è possibile per l'appunto all'interno del gioco avere la facoltà dopo ovviamente una prima run quindi con una sorta di new game plus avere la possibilità di sbloccare anche un finale segreto opzionale se al posto di eliminare in questo caso i nostri avversari avremo modo comunque di poterli risparmiare tramite delle sequenze e delle come dire delle sequenze e dei metodi che per l'appunto io ho già fatto sul mio canale quindi potete trovare tutto il gameplay completo di Sifu disponibile sul mio canale per poter vedere che cosa si riesce a sbloccare anche con il finale segreto e il finale alternativo di questa storia per quanto riguarda altre curiosità invece che possiamo parlare del di cui possiamo parlare di questo gioco Sifu è prettamente ispirato alla tipologia di kung fu di pak mei come stile di combattimento e il titolo per l'appunto presenta il termine Sifu che nel cinese che ovviamente essendo un termine cinese equivale al nostro maestro quindi è praticamente diciamo il punto centrale della trama ovvero il vendicare il nostro maestro che è stato ucciso da questi banditi inoltre che cosa c'è da dire che questo è un gioco che porterà via tantissime ore vi permetterà comunque di crescere sia dal vostro punto spirituale che dal vostro punto pratico proprio perché vi consentirà di migliorare visibilmente il vostro approccio con il gioco stesso vi permetterà comunque di apprendere diverse abilità vi permetterà comunque anche di interagire in maniera diversa con i vari livelli quindi è assolutamente un titolo che io consiglio assolutamente tanto tanto divertimento tanta azione molta frenesia in un titolo che in realtà è abbastanza semplice come sviluppo e come ideologia ma che sicuramente potrà farvi divertire per diverse ore detto ciò io penso che non ho niente altro da dire penso di aver detto tutto ciò che era necessario dire per quanto riguarda sifu e noi come sempre a questo punto ci becchiamo alla prossima bye bye